La cultura esaltata in tutte le sue forme. A Palagiano il nuovo appuntamento della 23esima edizione del Magna Grecia Awards. La Kermes nel ricordo di Nadia Toffa in chiave spin-off ha offerto ai presenti buon cibo, racconti e musica. Le eccellenze del Made in Italy compendiate in una serata di grande spessore di interesse sul sagrato della Chiesa Santa Maria Annunziata di Palagiano ad alternarsi Veronica Barbati, delegato nazionale col diretti Giovani Impresa, Floriana Fanizza, responsabile nazionale di Donna Impresa col diretti, Michele Peragine, giornalista Rai, specializzato nella cronaca del settore, nonché lo scrittore, regista e sceneggiatore Federico Moccia con il talk semplicemente Amami per ripercorrere la sua carriera e soffermarsi sulla potenza di una comunicazione ormai differente. Tante volte i ragazzi soprattutto sono troppo incollati al telefonino e con lo sguardo sullo schermo non vedono tutto quello di bello che c'è intorno. Oggi come oggi forse tutta questa situazione ci fa apprezzare ancora di più anche le cose più semplici, la libertà che noi pensavamo dovuta, assoluta, totale e che in realtà attraverso questa situazione noi non abbiamo più in quel modo. Io credo che come sempre accade ogni crisi è fondamentale per fare una riflessione importante. E poi a parlare con l'idiatore della Kermess Fabio Salvatore, la cantante, attrice e ora anche scrittrice Luisa Corna che ha presentato la sua fatica letteraria Tofu e la magia dell'arcobaleno, un libro per i più piccoli che solleva interrogativi rilevanti. È una fiaba, una fiaba dedicata ai più piccoli diciamo ai bambini delle scuole primarie. È una fiaba che è contro tutto quello che è l'indiscriminazione a favore della diversità e della bellezza della diversità. Amo molto scrivere anche a mano, mi piace così mantenere questo gusto un po' che sembra ormai essere obsoleto del passato, però lo amo moltissimo tutto quello insomma legato insomma alle nostre tradizioni di sempre. Grande la soddisfazione espressa dal primo cittadino di Palagiano. Una serata dedicata appunto alla cultura, all'arte, alla musica, alla scrittura e si inserisce all'interno di questa doppia tappa del Magna Grecia qui a Palagiano e noi come comunità, io come sindaco sono davvero onorato di offrire alla nostra comunità questa occasione che è un'occasione di incontro, di confronto, di ripartenza rispetto ai tempi vissuti.